Danimarca le urne per le elezioni legislative volte a rinnovare il Parlamento. Stando ai primi exit poll, i socialdemocratici guidati dalla 42enne, mette Fredriksen, sono in testa. La leader del partito è a capo di una coalizione di centrosinistra attualmente all'opposizione. Ha votato anche il primo ministro danese, Lars Rasmussen, a capo del Partito Liberale. Attualmente in Danimarca il governo, in carica dal 2015, è retto da una coalizione di partiti di centrodestra. Alla chiusura dei seggi socialdemocratici guidano col 25,3%, i liberali del primo ministro sono al 20,9%, i populisti del partito del popolo danese al 9,8% e il partito ambientalista Alleanza Rosso Verde all'8,8%.